Qua ringraziamo i nostri bravi amici che stanno preparando, stanno cucinando, grazie ai nostri bravi volontari noi li ringraziamo per essere venuti bravissimi, si stanno dando da fare tutti quanti e c'è la nostra supervisora che controlla, che manda i bacetti, le patate, i fagiolini, le cose buone, la roba buona grazie a Dio, grazie a Dio le cose buone che ci sono. Ci abbiamo anche Milena, Milena è venuta a trovarci dalla Germania, da lontano, dalla Bulgaria, noi la ringraziamo per la sua visita, Dio ti benedica e poi abbiamo il nostro bravo Alessandro, bravissimo, bentornato, bentornato il nostro bravo ragazzo della Colombia. Ringraziamo le varie persone che vanno e che vengono, sono sempre felici di collaborare, di venire a fare quello che c'è da fare, specialmente nel nostro bravo Alessandro che ci ha portato il pane. Quantità industriale di pane, di cose buone, cose buone dal mondo, guardate la Roma buona che ci hanno portato qui, che ci hanno regalato anche tante cose buone, quantità industriale di pane, guardate la quantità enorme di pane che c'è qua, quantità enorme di pane grazie a Dio. Guardate, 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 noi ringraziamo il Signore, sono cose buone, non manca niente, c'è anche il cibo spirituale che è ovviamente la parte più importante, sono cinque preghiere al giorno più quelle private, gente che è arrivata anche Anna, bentornata Anna, bravissima, bentornata, grazie della visita, grazie della visita e quindi sono cinque preghiere al giorno più quelle private e grazie a Dio. Ciao!